Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, dal 29 luglio, al 2 agosto 2024. Il piano oscuro di Roberto. Lunedì 29 luglio 2024. Alberto, dopo aver passato dei momenti indimenticabili con il piccolo Federico, decide di seguire Clara per scoprire dove viva adesso, ovvero la sua casa segreta con Edoardo Sabbiese. Dopo esserci riuscito, escogita subito un piano. Quale sarà adesso la sua prossima mossa? La sua vendetta ha inizio. Intanto, a Napoli, arriva un duro ed inevitabile confronto tra Vice e Massaro che finisce per avere delle ripercussioni anche su Guido e Mariella, il cui rapporto è sempre più compromesso. In verità, anche quello tra Rosa e Marika finisce per incrinarsi. Michele è molto preoccupato per il destino di Radio Golfo 99 e per il nuovo taglio editoriale che Ferri gli darà. Filippo, però, nonostante gli innumerevoli timori, lo spinge lo stesso a godersi le ferie ed a partire con Silvia per la meta prescelta per le vacanze estive. Sartori, in cuor suo, spera che l'acquisto della radio non vada mai in porto. Martedì, 30 luglio 2024. Arrivano nuove e pesanti accuse da parte di Marika contro Rosa. Tra le due amiche si crea una frattura molto profonda. Mariella e Bice, invece, riescono pian piano a far risplendere la loro amicizia. Guido commette un altro passo falso. Avrà a che fare con Claudia? La rivedrà. Clara ed Eduardo, emozionatissimi, sono alle prese con gli ultimi giorni prima del parto, sicuri di trovarsi ormai al sicuro. Nessuno dei due, però, immagina che Alberto stia tramando una terribile vendetta volta a colpire Sabbiese. Intanto Filippo spera ancora che il piano di acquistare la radio da parte di suo padre non vada a buon fine. Marina si accorge che le frustrazioni del marito per il piccolo Tommaso si stiano proiettando, in qualche modo, anche nelle trattative di acquisto. Deciderà di affrontare l'argomento con lui e con Filippo. Quest'ultimo, intanto, è sempre più deluso dal comportamento del genitore. Mercoledì, 31 luglio 2024. Dopo un'attenta osservazione, Marina capisce di non aver sbagliato sul conto di Roberto. Sta macchinando qualcosa di losco. Sebbene la donna non abbia ancora compreso a fondo i veri intenti del marito, è abbastanza chiaro che Ferri voglia portare a termine l'acquisto della radio di Chiara Petrone per i suoi scopi. Claudia torna a pensare alla possibilità di lasciare Napoli per sempre. Lo farà davvero? Continuano, nel frattempo, gli scontri tra Marica e Bice, donne che si ritrovano ad essere nuovamente vicine in spiaggia. Dopo quello che è successo durante la breve vacanza trascorsa insieme alla madre, a Marica e dal nuovo fidanzato di quest'ultima, il piccolo Manuel non è affatto contento di essere rientrato prima del tempo a casa. Il malumore del bambino si ripercuote, inevitabilmente, nel suo rapporto con la madre. La Piccariello riuscirà a gestire la situazione nel migliore dei modi? Giovedì, 1 agosto 2024. Dopo un primo azzardato confronto, Marica e Bice scoprono di avere in comune molto più di quello che credono. Nel frattempo, Mariella è ormai convinta al 100% di voler riconquistare il marito. Roberto, preso dall'arrivo del processo per l'affidamento di Tommaso, non si arrende e anzi tenta un'ultima carta contro Ida in modo da screditarla davanti al mondo intero. La ragazza se ne accorgerà appena in tempo. A Palazzo Palladini, Renato si prepara alle sue prossime vacanze in Sicilia, desideroso di rivedere Franco, Angela e la nipote Bianca. Nico, intanto, finisce per avere un cambio di programma improvviso che lo spinge a cercare l'appoggio del figlio Jimmy. Quest'ultimo, considerati i trascorsi con Valeria Pacello, come reagirà di fronte alle richieste del padre? Manuel è sempre più triste e ciò potrebbe indurlo a commettere passi falsi. Rosa se ne accorgerà appena in tempo? Venerdì, 2 agosto 2024. Malgrado i tentativi di riavvicinamento di Mariella, la crisi tra la donna e Guido sembra ormai non avere più soluzioni. Non a caso, il vigile decide di trascorrere qualche giorno fuori casa, impensierendola ancora di più. Si rivedrà con Claudia, sempre ferma nella sua intenzione di lasciare la città. Mentre Ferri medita contro Ida, Filippo è sempre più in ansia per il suo destino professionale. Alberto, invece, sempre più incattivito, è pronto a colpire. Clara non immagina nemmeno ciò che l'attende. Nico, Jimmy e Giulia rischiano di dire addio al loro viaggio in Sicilia. La famiglia Poggi alla fine riuscirà a riunirsi oppur no. A partire, questa volta, sarà soltanto Renato. Rosa è sempre più delusa dal comportamento di Marika e non riesce proprio a perdonarla. Vice, invece, cerca di essere di conforto all'altieri, sempre più infelice nella sua nuova dimensione sentimentale. Cosa succederà adesso? Un posto al sole anticipazioni. Ecco quando andrà in pausa la SOP. Ci siamo. La stagione NUM. 28 della SOP partenopea sta per terminare e i fans sono in fibrillazione per la puntata conclusiva del ciclo, che andrà in onda venerdì 9 agosto, come sempre con un colpo di scena che ci terrà con il fiato sospeso. Dunque, la pausa estiva, della durata di due settimane, inizierà lunedì 12 agosto e terminerà venerdì 23 agosto. Gli episodi torneranno in onda lunedì 26, pronti ad entusiasmarci come non mai. Nel frattempo, c'è grande attesa per un importante traguardo, quello delle 6500 puntate. La produzione, in occasione di questo grande evento, ha ben pensato di omaggiare i fans con ben 10 episodi speciali che andranno in onda durante lo stop e con protagonista Rosa Piccariello. Sarà lei la voce narrante di Palazzo Palladini, che ci presenterà le storyline principali dell'annata agli sgoccioli direttamente dalla portineria. Vige l'assoluto riservo sui dettagli di questi episodi speciali. Le poche informazioni in nostro possesso rivelano che Raffaele partirà con Ornella per Barcellona per raggiungere Patrizio. Affiderà, dunque, le mansioni di portineria alla Piccariello che si confermerà ufficialmente come la nuova vice portiera del famoso condominio di Posillipo. Dalla Guardiola, la donna racconterà gli eventi più importanti e significativi che hanno contraddistinto il 2023 e parte del 2024. In tale occasione, compariranno anche altri personaggi, che aiuteranno la mamma di Manuel ad introdurre le diverse vicende che di volta in volta riporterà. Quanto agli episodi pre-pausa, saranno sicuramente incentrati su storie a forte impatto emotivo. Alberto vivrà la separazione da Federico in maniera dolorosa e commetterà un passo azzardato. Ampio spazio sarà dato alla vicenda di Tommaso che sta per giungere a naturale conclusione. Nunzio e Rossella, Guido e Mariella e Diego e Ida ci faranno sussultare con le loro rispettive crisi sentimentali, mentre ci sarà grande attesa per la scelta del nuovo primario. Insomma, le puntate prima di Ferragosto saranno tutte da vedere. Un posto al sole anticipazioni e news. Patrizio Giordano tornerà a Napoli. E adesso, è la volta di Patrizio Giordano, di cui si ritornerà a parlare nelle prossime puntate. Come ben sapete, per inseguire i suoi sogni di carriera, lo chef è volato in Spagna, più precisamente a Barcellona, dove lavora in un ristorante. Nella puntata trasmessa il 19 luglio, Ornella è arrivata finalmente da suo figlio dopo l'annuncio della sua pensione ed ha spedito una foto con il ragazzo a papà Raffaele. Nello scatto, Patrizio appare molto cambiato rispetto a come appariva anni fa. Ha una folta barba che ha sorpreso molti telespettatori, che addirittura hanno fatto fatica a riconoscerlo. Ma che fine ha fatto Patrizio? Tornerà mai nella serie napoletana? Interpretato da Lorenzo Sarcinelli, lo chef ha lasciato la soap nel 2022. L'attore si sta attualmente dedicando a nuovi progetti professionali. In più interviste, ha ammesso di essere molto legato alla serie napoletana e di aver vissuto dei momenti molto importanti, sia dal punto di vista lavorativo che umano. Anche se l'addio è sembrato definitivo, c'è chi ipotizza che possa tornare sui suoi passi e tornare a vestire i panni di Patrizio. Cosa sta facendo attualmente il ragazzo? Cosa si sa di lui? La risposta è scritta nel romanzo canonico di Un posto al sole, portami con te. Il giovane, a Barcellona, ha trovato non solo l'amore ma anche il lavoro. In Spagna, ha infatti conosciuto la bellissima Ines, figlia di uno chef stellato. I due sono felici e innamorati e sembra non ci sia alcuna crisi all'orizzonte. Presto, anche Raffaele si unirà a suo figlio e da sua moglie, lasciando la portineria nelle mani della fidatissima Rosa Piccariello. Quanto al personaggio di Ornella Bruni, è lecito chiedersi cosa succederà adesso che è in pensione. Resterà in Spagna? Tornerà a Napoli? Di cosa si occuperà? Al momento tutto tace, vi forniremo risposte dettagliatissime il prima possibile. Un posto al sole anticipazioni. Alberto metterà nei guai Clara ed Eduardo. C'è grande appressione per Alberto Palladini che, nei prossimi appuntamenti, continuerà a soffrire per la lontananza dal piccolo Federico. E stando alle prime news, arriverà a compiere un gesto inconsueto, potenzialmente pericoloso per se stesso e per i suoi cari. Tutto comincerà quando l'avvocato, emotivamente provato per i tanti eventi negativi che hanno contraddistinto la sua esistenza, riceverà una telefonata dal servizio centrale di protezione, attraverso cui si scoprirà il luogo fissato per l'incontro con il figlioletto. La città prescelta sarà a Grosseto. Alberto, in men che non si dica, organizzerà il suo piccolo viaggio, trascorrendo con il piccino dei momenti fantastici. Per l'occasione, rivedremo in azione anche Clara per la quale sono in arrivo giornate veramente difficili. Gli spoiler, infatti, indicano che Palladini non ne vorrà affatto sapere di separarsi dal bambino. Pertanto, quando riporterà il piccolino alla mamma, penserà bene, di seguirli per scoprire la località segreta dove si è stabilita con Edoardo dopo aver accettato di entrare nel programma protezione testimoni insieme a lui. Dopo aver appurato la verità, come si muoverà? La sensazione è tutta negativa. L'uomo rapirà Federico portandolo a Napoli. Rivelerà ai nemici dell'ex camorrista l'indirizzo dove l'uomo e sua moglie si sono stabiliti. Già più volte la curcio ed il suo nuovo amore sono scampati all'agguato dei malavitosi così come Alberto ha già organizzato il rapimento di suo figlio. Adesso cosa succederà? Rumors parlano di attimi connotati da forte suspense. Un posto al sole anticipazioni ed intervista a Daniela Ioya. Grandi novità e cambiamenti per Rosa Piccariello. Soffermiamoci su Rosa Piccariello, impersonata dall'attrice di teatro e televisione Daniela Ioya. Quest'ultima è entrata da pochi mesi nel cast di Un posto al sole. Grazie alla sua bravura e determinazione, è riuscita a fare breccia nel cuore di tutti. Rosa è una donna fortissima, determinata, dotata di un forte senso di dignità. Ha sfidato la camorra e, attualmente, sta legando tantissimo con il nuovo parroco Don Antoine, il cui rapporto è malvisto dalle parrocchiane. Daniela Ioya, in una recente intervista, ha rivelato che per il suo personaggio sono in programma grandi novità. Anche in campo sentimentale? La risposta è sì. Rosa incarna un personaggio dalle mille sfumature. Per poterla portare in scena al meglio, l'attrice si avvale del supporto di un coach presente in Rai. È distante dal modo di essere di Daniela ma forse, a detta di quest'ultima, ad accomunarle, c'è la passione con cui riescono ad affrontare le diverse situazioni della vita. Rosa è ancora perdutamente innamorata di Damiano e spera un giorno di formare una famiglia con lui. La Ioya si augura che possa sganciarsi da lui e rifarsi una vita. Accadrà davvero? Nel mondo della SOP. Mai dire mai? C'è chi ipotizza che sarà Don Antoine a rubarle il cuore e che il sacerdote arriverà a mettere in discussione la sua vocazione per lei. Ritornando all'attrice, sappiamo che presto reciterà in Mare di Ruggine, dove i protagonisti scopriranno di essere eroi per caso offrendo uno spaccato del quadro politico, sociale ed economico del nostro paese. La si vedrà anche in un episodio de Il Commissario Ricciardi, Collino Guanciale, dove ci apparirà in una veste tutta particolare. Tornando ad un posto al sole, ecco un colpo di scena riguardante proprio la nostra amata Rosa. A breve scoprirà finalmente l'identità del nuovo fidanzato di Marika e... pare che ne resterà molto delusa. Un posto al sole anticipazioni. Scoperta shock per Rosa. C'è grande attesa per le puntate di Un posto al sole trasmesse tra fine luglio ed inizio agosto 24, quando finalmente verrà dato un volto al nuovo fidanzato di Marika, la migliore amica di Clara. Vi annunciamo che questo nuovo personaggio avrà un peso importantissimo nella trama. Pare si tratti di un uomo collegato al famigerato clan torrente. Le cose vireranno realmente in tal senso. Oppur la storyline avrà risvolti più leggeri. Questa ultima ipotesi è tutta da vagliare. Dalle prime timidissime news pare infatti che il nuovo amore di Marika sia collegato a Bice Cerruti. E adesso vi sveliamo il perché. Ma quali circostanze porteranno la Piccariello a scoprire la sua identità? Tutto avrà inizio quando Manuel insisterà con la mamma affinché accetti l'invito di Marika a raggiungerli al mare per trascorrere un po' di tempo insieme. Indaffarata come lo è sempre, Rosa, inizialmente, non ne vorrà sapere di partire. Poi cederà e raggiungerà la sua amica verso la meta prescelta per le vacanze estive. Arrivata sul posto, resterà scioccata quando le verrà presentato il suo nuovo compagno. Marika, come ben sapete, conosce benissimo tutti gli amici, o meglio gli attuali nemici, di Sabbiese. Che sia stata raggirata da uno di loro. Ma ancora. C'è chi ritiene che la donna si innamorerà di Sergio Massaro, ex marito di Bice, la quale non ci peserà due volte a preparare la sua vendetta. A ritenere tale ipotesi plausibile è un'anteprima sulla puntata che sarà trasmessa il 29 luglio, che rivela che si assisterà ad un durissimo confronto tra Massaro e Bice che avrà serie conseguenze anche sul rapporto d'amicizia tra la Piccariello e Marika. Se il video ti è piaciuto metti mi piace. Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie.